Musica Respinta alla richiesta di scarcerazione e delitto di sesto rilevante, la moglie di Olivieri, sospettata di essere la mandante dell'omicidio del marito Antonio Olivieri, resta in cacere. Eroina e furti, arrestate due persone, sono un 55enne sorpresa a spacciare a Chiavari e un 18enne francese che aveva rubato l'autoradio da un'automobile a Bargagli. Cade per le scale grave un uomo di 88 anni trovato a terra in via Podestà a Castiglione Chiavarese, trauma cranico per lui portato al San Martino di Genova. Sei anni di cacere per l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Fardini, arrestato lo scorso aprile dopo aver intascato una mazzetta da 7500 euro fuori dal ristorante Emanuele Lina di Recco. Gesonita Barbosa, moglie di Antonio Olivieri, resta in cacere. Il GIP ha respinto l'istanza di scarcerazione presentata dall'avvocato della 35enne brasiliana, Nicoletta Peri. Barbosa è accusata di essere il mandante dell'omicidio di Olivieri, il cinquantenne in bianchino ucciso nello scantinato della palazzina dove abitava in Viale Roma, nei pressi della stazione ferroviaria di Sestri Levante, lo scorso 23 novembre. La donna si trova attualmente nel cacere femminile di Genova Ponte X a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare come l'attuale compagno di lei, Paolo Ginocchio, 45enne originario di San Salvatore di Cogorno, attualmente rinchiuso a Genova Marassi. I due erano stati prelevati nella loro casa di Via dei Devoto a Lavagna e arrestati. Buonasera dal TGT Guglio, spaccio di eroine, furto di un autoradio, due arresti dei carabinieri della compagnia di Chiavari in una vasta operazione. I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno effettuato lo scorso fine settimana un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività sono state identificate complessivamente circa 250 persone e controllati 200 automezzi. Proprio durante l'attività i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato per spaccio di droga un 55enne colto in faragranza di reato mentre cedeva una dose di eroina ad un cliente. Sono stati alcuni cittadini a segnalare ai carabinieri di aver notato in vie limitrofe a Piazzale della Franca strani movimenti di un soggetto in motorino che si incontrava ripetutamente, anche se per pochi secondi, con varie persone. L'uomo è stato bloccato mentre cedeva la dose. Il servizio ha visto l'impiego di 20 pattuglie e da Chiavari si è steso anche ad altri comuni della giurisdizione, in particolare in Val Fontanabuona. E qui i carabinieri della stazione di Gattona hanno arrestato a Bargaglio uno straniero perfutto su autovettura. Anche in questo caso importante è stata la collaborazione di un cittadino che ha prontamente segnalato ai carabinieri la presenza di un individuo che si aggirava tra le autovetture parcheggiate in quella zona. I militari, individuato al soggetto, un diciottenne privo di documenti che riferiva di essere francese, lo hanno trovato in possesso di un autoradio appena rubata, procedendo quindi al suo arresto. Il giovane ora deve rispondere del reato di furto aggravato. Questa mattina, invece, attorno alle 10, un uomo di 88 anni è stato soccorso in via Podestà a Castiglione Chiavarese. Siamo in Val Petronio. L'anziano è stato notato da un passante in fondo ad una scala. Sul posto del personale del 118, la Croce Verde di Castiglione Chiavarese e successivamente l'elisoccorso. L'85 anni, infatti, ha riportato un trauma cranico ed è stato caricato sul mezzo aereo incosciente e intubato, quindi in condizioni gravi. E adesso parliamo della condanna a sei anni di carcere per l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Genova. Fu pizzicato fuori dal ristorante Manuelina di Reco con una tangente di 7500 euro. Sei anni di condanna per l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini. La sentenza, con rito abbreviato, è stata emessa dal Gup Franca Borzone. Pardini era stato arrestato ad aprile mentre intascava una tangente da 7500 euro da tre consulenti della Securpol, società campana di vigilanza e logistica. Condannati a quattro anni il commercialista Francesco Canzano, difeso dall'avvocato Paolo Scovazzi, e a tre anni il collega genovese Stefano Quaglia, l'unico a non essere stato arrestato. L'avvocato Luigi Pelella e il commercialista Massimo Alfano hanno già invece patteggiato tre anni e sei mesi di cacere. Pardini è stato anche condannato al pagamento di una provvisionale di 50.000 euro. Erano stati arrestati all'uscita del ristorante Manuelina Di Recco. La mazzetta era un acconto di una tangente più grande. Al vaglio altre transazioni di cui Pardini si era occupato. Indagati quattro dirigenti della Chevron e il commercialista di Flavio Briatore e due funzionari di entrate per il FOS One. L'uomo di 36 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Via Prioria a Graveglia, località del comune di Carasco. L'uomo Massimo Bernadello è stato trovato dalla moglie. Secondo quanto appreso vicino a lui ci sarebbe stata anche la cacassa di uno dei suoi cani. Sul posto del personale medico del 118 che hanno dichiarato la morte naturale dell'uomo. I carabinieri hanno informato al magistrato di turno, Gabriele Adotto, che ha comunque disposto l'autopsia. Andiamo in Val Petronia. Casalzi ha inaugurato il manto in erba sintetica dei campi da tennis. Sabato scorso si è svolta l'inaugurazione dei nuovi campi da tennis della polisportiva casalzese. Gli impianti sono stati riqualificati con erba sintetica di ultima generazione. I tanti appassionati di tennis del paese di Casalzi e Ligore e della Val Petronio avranno dunque la possibilità di fruire di una struttura all'avanguardia, al coperto e che offre istruttori e maestri di grande professionalità. Un particolare ringraziamento all'associazione polisportiva casalzese e al suo presidente Alessandro Bertoldi che hanno investito risorse economiche e umane per realizzare questo intervento, ha affermato il sindaco di Casalzi e Ligore Giovanni Stagnaro. I nuovi campi da tennis seguono l'intervento realizzato lo scorso anno attraverso risorse comunali di rifacimento del limitrofo campetto da calcio con erba sintetica anch'esso di ultima generazione. I lavori aggiunti al nuovo parcheggio della cosiddetta contrada, usufruibile dai fruttori dei vicini impianti sportivi, fanno, dice il sindaco di Casalza, della polisportiva casalzese un'eccellenza nel panorama sportivo del Tiguglio. La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato nei giorni scorsi 60.000 giocattoli e decorazioni natalizie in magazzini e negozi della città ma anche della provincia. La merce era tutta priva di marchio CE e per questo ritenuta pericolosa. Gli interventi dei baschi verdi hanno consentito di sequestrare oltre 60.000 giocattoli, luminari e decorazioni natalizie di sanzionari e rappresentanti legali di due aziende di proprietà di imprenditori cinesi. Dal prossimo 5 maggio 300 chilometri di strade Liguri passeranno sotto la gestione di ANAS. 283 chilometri di strade ex statali e provinciali in Liguria dal prossimo 5 maggio verranno riclassificate come di interesse nazionale e saranno trasferite interamente ad ANAS. A renderlo noto l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone a Broghetto Vare insieme al presidente della regione Liguria Giovanni Totti per un sopralluogo al cantiere ANAS dove sono in corso i lavori di costruzione di due ponti sul torrente Pogliaschina. Per noi è un grande risultato, una conquista ottenuta dalla regione Liguria insieme ad ANAS, ha detto Gianpedrone. Siamo riusciti a convincere il governo che questo trasferimento era necessario. Tra le strade che passeranno sotto la competenza di ANAS ci sono le provinciali 225 della Fontana Buona, la 523 del Colle di Centocroci, la 586 della Val d'Aveto e la 654 della Val di Nure. Ha robato una moto, una Honda, ha tentato il furto di una Fiat 500 e non contento anche di una Opel Corsa parcheggiata e nonché ha prelevato, si fa per dire, diversi capi di abbigliamento e generi alimentari. Tutto nel mese scorso e tutto a mezzanego. Ieri al termine di accertamenti i carabinieri di Borzonasca hanno identificato il ladro seriale, lo hanno denunciato per furto e tentato furto continuato. Si tratta di un 36enne francese. Flavio Fusi, autore di Cronache infedeli delle quali parleremo subito dopo, ma prima una giornata chiave impegnativa con i ragazzi della scuola, Ilaria Alpi, e questo pomeriggio a raccontare di questa sua cronaca infedele. Eh sì, è stata una giornata impegnativa e interessante. Io sono stato qui a Chiavari l'anno scorso perché mi hanno chiamato quando hanno intitolato questa scuola Ilaria Alpi e ci eravamo lasciati dicendo ci rivediamo l'anno prossimo se fai questo libro. Ho fatto questo libro, mi hanno ospitato di nuovo, l'incontro dei ragazzi è stato bellissimo, come al solito grandi domande di questi giovani cittadini, è stato molto affettuoso e ora ho scoperto questo luogo interessante, bello, molto paludato, ma molto inclusivo e una serie di persone simpatiche con cui abbiamo parlato di questa mia fatica, tra virgolette. Ecco, parliamo di questo, giornalista consumato ma giovanissimo scrittore. Partiamo da questo e partiamo dalla parola infedeli. Perché usare la parola infedeli relativamente alle cronache? Perché per tutta la mia vita ho fatto il giornalista, quindi l'imperativo è di essere un cronista fedele, di raccontare quello che succedeva. Ora che non faccio più il giornalista mi sono perso la libertà di fare delle cronache infedeli, cioè filtrate attraverso le mie emozioni, attraverso la vita delle persone che ho incontrato, senza stare attaccato alla realtà quotidiana e quindi più scrittore che giornalista e spero che sia riuscito decentemente. Nel contenuto del cronache infedeli c'è più cronaca, c'è più ricordi o c'è più storia? C'è una cronaca filtrata attraverso i ricordi, attraverso i miei ricordi, le mie emozioni di quegli anni, tutta una serie di episodi che sono nei libri di storia, che io ho vissuto da protagonista, da testimone, che però ho vissuto insieme alle persone normali di questi luoghi, sotto il muro di Berlino che crollava, a Mosca durante il colpo di Stato, l'11 settembre a New York, parlando della vita delle persone piccole, normali, che ho incontrato. Nel momento del dibattito, chiamiamolo così, che c'è stato oggi pomeriggio, la parola infedele forse dovrebbe essere rapportata a una serie di parole usate, democrazia, storia, che forse non riconduce più alla sua origine, la fedeltà. Esiste ancora? No, io credo che infedele sia una parola positiva oggi, anche se viene usata in certe parti del mondo come un'offesa. Se sei infedele ragioni con la tua testa, se sei fedele a un'ideologia, a una religione, sei dentro un'onda che ti sovrasta. Se sei infedele puoi dire no, non ci sto, non sono d'accordo, e quindi l'infedeltà è un regalo da tenere ben caro. Molti anni di inviato, raccolti in questo libro, però un libro facile da leggere, un libro che è molto profondo ma si legge con facilità. Com'è unito questi due aspetti? Spero di sì, spero di sì. Parla di cose complesse, però con leggerezza, anche se con partecipazione. Io chiedo ai miei lettori quando ne parliamo, mi dicono, ma questo è un libro troppo denso, io non so la storia del Ruanda, per esempio. Io li invito, leggete e se c'è una musica, ascoltate la musica di questa scrittura e poi se volete informarvi su quello che è successo, ci sono tanti altri modi, ma fatevi portare dall'onda. Non c'è bisogno di essere degli esperti di politica estera per capirlo. L'immagine del libro è un soldato. Tronaca e infedeli è un libro di pace o di guerra? È un libro di pace, ma questo soldato, non l'ho detto nella riunione che mi hanno chiesto, questa è una foto importante. Questo è un soldato della Germania Est che sta attraversando il muro. Quando costruivano il muro nel 1961, questa è una foto importantissima, questo soldato della Germania Est salta il muro che stanno costruendo e sceglie la libertà. È una foto che è passata, ora è elaborata graficamente qui, quindi è un soldato che sceglie la libertà in un momento molto importante della storia del mondo e quindi hanno fatto bene a metterlo in copertina. Lino Cama, consigliere comunale al Comune di Chiaveri, Officina Comune è il nome dell'associazione che viene presentata questa mattina. Come nasce e da quali esigenze? Officina Comune è un'associazione che nasce portando a fattore comune l'esperienza che abbiamo vissuto durante la campagna elettorale ma cercando di fare qualcosa di più ampio, aprirla e farla diventare quell'esperienza un'occasione rivolta a tutta la città. Continuiamo a voler lavorare per la città, Officina Comune nasce da un principio, infatti all'inizio citiamo anche, tu citi, vogliamo partire in alto, cioè democrazia e partecipazione. Noi crediamo che importante sia partecipare e fare in modo che più persone partecipino. Cerchiamo quindi di aprire l'esperienza vissuta a tutta la cittadinanza, uscendo dai confini di quello che potrebbe essere una appartenenza, una logica di appartenenza, perché vogliamo lavorare per la città. E Officina Comune nasce fondamentalmente con questa prospettiva, voler lavorare per la città cercando di coinvolgere il maggior numero di persone possibile al di là del concetto di pura appartenenza. Avete sottotitolato Officina Comune, associazione per lo sviluppo sostenibile di Chiaveri. Di Chiaveri e del territorio, perché crediamo che quando si fa un ragionamento sulla città, soprattutto quando si pensa non tanto sui problemi contingenti, ma quelli che hanno una valenza, un peso più strategico, di portata più ampia, come ad esempio la gestione dei rifiuti, sulla quale c'è tutta una normativa che porterà a ragionare necessariamente in termini di comprensorio, quindi di territorio più ampio, noi dobbiamo ragionare quindi non solo su Chiaveri, ma sull'interazione Chiaveri e territorio. Chiaveri è il suo comprensorio, una volta si diceva, una volta purtroppo la città dell'Entella, ma è un termine importante che credo che debba essere ripreso, perché per essere efficaci su un mercato sempre più competitivo, penso a vendere il prodotto Chiaveri, scusate l'espressione, bisogna pensare in logica sinergica, cioè insieme agli altri comuni del territorio, perché solo così riusciamo a offrire un prodotto, un servizio che sia veramente importante e questo vale anche quindi per la gestione di alcune, penso del problema del depuratore, che non a caso diventa un depuratore di vallata, penso alla gestione dei rifiuti, penso cioè a tutte quelle attività che devono essere governate insieme agli altri comuni del territorio. Il turismo è il primo esempio di tema che va governato insieme agli altri comuni del territorio. In quanti partite e con quale caratteristica si compone questa associazione? I soci fondatori sono 25, quindi credo tutto sommato è un buon numero. La caratteristica quella di voler veramente parlare a tutti, di essere un laboratorio e un laboratorio diventa un punto di confronto di tante idee diverse. Tanto è vero che io come consigliere comunale, espressione di una campagna elettorale, in questa officina faccio un passo indietro, perché all'inizio sicuramente sono uno dei soggetti che ha concorso a svilupparla, a farla partire, ma voglio che siano altri a farsi carico dello sviluppo, soprattutto possibilmente cercheremo di coinvolgere i giovani, perché loro sono il vero futuro della città. Maleni è il presidente in ogni caso. Sono il presidente in questa fase di partenza, assolutamente sì, perché ho voluto portare un'esperienza di partecipazione, di coinvolgimento, di confronto con la città. In questa fase ne sono stato uno dei promotori, ma sicuramente saranno altre le persone che dovranno darsi da fare, perché è giusto che si apra e soprattutto è giusto che si apra alla città. Veramente, al di là della logica di pura appartenenza, perché se continuiamo a ragionare in termini di appartenenza, politica intendo, finiamo per leggere i fenomeni solo da un punto di vista. Non va bene, dobbiamo ragionare sullo sviluppo della città e del comprensorio e del tuo territorio. I soci fondatori, questi che partono in questo momento, sono tutti chiavaresi o ce ne sono anche nei comuni vicini? Dovrei ricordarmi esattamente la residenza di tutti, ma sono tutti chiavaresi. Sì, ma poi parte su Chiavari ed è partita da Chiavari, ma la logica di aprirci... No, qualche duna anche di lavagna. Sto facendo fatica a ricordarmi le carte di identità di tutti. Qualche duna anche di lavagna, proprio questa logica di aprirci verso il territorio sul territorio. Uscirete con delle iniziative pubbliche? Sì, usciremo con delle iniziative pubbliche. Noi stiamo lavorando in particolare, fine gennaio, prima di febbraio, vedremo adesso quando riusciremo a far coincidere le agende delle persone che stiamo cercando di coinvolgere. Un primo tema, che è uno dei quattro tema fondamentale sui quali vogliamo lavorare, che è quello della gestione dei rifiuti, sul quale pensiamo di fare un convegno, un incontro, portando le buone pratiche nazionali, i più importanti esempi, a prescindere anche qui dal colore politico. Se sono state esperienze di successo, cercheremo di coinvolgerle per poter portare a Chiavari e poter partire da questo una discussione su come migliorare la gestione di un tema molto particolare, che è quello appunto dei rifiuti. Danilo Marchello, il professore che dirige la superba Chamber Orchestra, che è un nome nuovo, ma per capire già Orchestra del Tiguglio, ci presenta a dicembre Musica 2017. Un appuntamento ormai che si perde nel tempo, nel senso che è davvero una tradizione. È una tradizione e allora grazie della domanda io colgo la tua domanda per ringraziare in primis l'amministrazione comunale entrande che ha voluto confermare l'appoggio per questa manifestazione. Credo che un po' di buona musica faccia bene a tutti, quindi usciamo tutti dai concerti che siamo dei cittadini migliori. È sempre bello vedere l'auditorium gremito con persone che vengono a passarsi un pomeriggio e ascolta della musica. Il 26, il giorno dopo di Natale, anche quest'anno abbiamo il piacere di ospitare con noi Roberto Invernizzi, che è un soprano che vive a Chiavari, che ha anche lei una carriera internazionale nella musica antica soprattutto. Siamo molto felici quest'anno perché lei tra l'altro due giorni prima, il 24, è alla scala per cantare il concerto di Natale, quindi per noi è un onore averla dopo due giorni in quel di Chiavari con noi. Programma dedicato al Natale, c'è una cantata sacra di Handel, concerto grosso fatto per la notte di Natale. In questa occasione, siccome i musicisti della mia orchestra sono molto versatili, è un programma del Settecento, lo presenteremo quindi con strumenti dell'epoca e prassi esecutiva dell'epoca e alla sera replicheremo il concerto nella Basilica dei Fieschi a San Salvatore. Sempre un bel, come dire, programma con una ricerca a monte. Quanto è bello fare questi passaggi e valutare goccia a goccia quello che poi diventa una cascata musicale? Beh, da parte mia è l'aspetto più piacevole, devo dire, perché comunque la storia della musica ci offre centinaia di migliaia di brani e creare degli accostamenti a volte un po' arditi, a volte suggestivi, a volte riflessivi, diciamo che stimola molto la fantasia di chi programma queste cose. Io poi devo confrontarmi anche con i musicisti perché spesso abbiamo delle esigenze diverse, però riusciamo sempre a trovare un'idea comune perché credo che sia essenziale avere un intento comune per offrire un buon risultato. Grazie per l'attenzione, a domani! Previsioni per domani, mercoledì 20 dicembre. Al mattino nuvolosità irregolare, con possibili deboli e isolati piovaschi a Ponente. Poco nuvoloso lungo i versanti padani di Levante. Cielo sereno ovunque dal pomeriggio. Venti inizialmente deboli variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali fino a moderati, tra Savonese e Genovesato. Mare inizialmente poco mosso in aumento, localmente fino a mosso a Ponente. Umidità su valori medio-alti. Le temperature previste, sulla costa tra 5 e 12 gradi, nell'entroterra tra meno 5 e 7 gradi.